Ciao, benvenuto sul mio canale YouTube, io sono Giovanni, consulente finanziario indipendente dal 2021, ma operativo con il capitale di famiglia sui mercati finanziari dal 2012. La nostra storia familiare è una storia di 30 anni, infatti negli anni 90 e negli anni 2000 noi già investivamo sui mercati finanziari attraverso tre banche, quindi avevamo tre portafogli di investimento. Però la situazione non era soddisfacente, non ci piaceva più questo modo di fare, questo modo di lavorare, questo conflitto di interesse che continuava a persistere e a rovinare le nostre performance e quindi abbiamo deciso di fare un salito di qualità e di diventare autonomi, indipendenti, ma soprattutto molto professionali. Tant'è vero che io poi dal 2021 aiuto i privati, i cittadini e anche qualche piccola azienda a creare delle strategie di investimento e di gestione del patrimonio molto più efficienti, molto più comprensibili e trasparenti agli occhi dei clienti stessi. Quindi ti invito a fare due cose, la prima è di iscriverti al canale e di guardare tutti i video che puoi perché sono veramente molto interessati. La seconda, se vorrai, è contattarmi per una prima consulenza gratuita di mezz'ora attraverso il link che trovi in descrizione. Io per questo video mi fermo qui. Ciao!